E' una zocco, la o no! Mi ha messo 29 per sparare! Eh? Me ne ha aperti 20. Non ho capito. Come here boy! Si! In pratica, in teoria non lo so. Siete tutti scaldi. Incomincia già la gana. Sii! Sii! O sei riuscito a killare? No, 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 io dico a lui che l'ho ucciso col piccone. Sii troppo forte. Sono troppo forte! Ragazzi, Realize continua con i provini adesso di live, adesso vi spammo la sua fantastica, magnifica, sposissima live. Oh, fate rispetto. Scusa, frame Realize. Fermo, non metti la. No, è morto, diavolo. Va va, 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 in cura al tutto. In cura, in cura. Allora, adesso vi condivido la live. Copio link. Poi, andando su il mio canale, ragazzi, il mio canale, perché è il mio canale, omg, omg, ragazzi, tutti in questa live e noi ci rivediamo alla prossima. Tutti in questa live che spammo. Però, ma io dovrei pure cambiare accanto. Ci rivediamo alla prossima. Come faccio a mettere lo schermo nero? Ci sto chiedendo la live. Tutti in la live di Realize per chi vuole fare provino, ragazzi. E poi, come faccio a mettere lo schermo nero? Che devo cambiare accanto. Vai su OBS. C'è tipo vicino alla scena un occhiolino. Devo togliere quello, ok. O sennò fai scena, fai proprio scena. Ok, va bene, va bene, capito. Capito. L'occhiolino lo so. E poi rimetti l'altra scena della live. Ok, ragazzi, tutti i vari handicappati, ci lo so. Tutti in live di Realize per chi vuole fare provino. Bella, ragazzi, tutti nel link che sto formando, ragazzi. Tutti, tutti, tutti. Ok, bella. Aspetta, i provini non li faccio, fai venire a sto parco. Ah, se siete in live, fatemi finire a sto parco e poi faccio i provini. Mi chiavra, la mia mira. Easy boy! No, non proprio easy. Mi chiavra, non sei un po' troppo in alto? Non so come scendere. Ma sono troppo forte. Ma... Ma dio. Ne fosse venuto qualcuno, eh? De quei trenta che c'erano, tu ne so venuto di live. Che bastardi. Che sono? Easy boy! Ma che easy, che intai ricaricare tutta roba. Vai, vediamo quante sono in... Fra, ma devo aprire il telefono, almeno. Due, Fra, due! Ma sei sicuro di aver spawnato il link? Fra, ho spawnato il link! Grazie. Eh, vuol dire che nessuno vuole fare i provini. Ti devo dire. Ah, set e cap... Non vuoi chiedare, eh? Frame. Debbia rarvo... Proprio arvolo. Mi fai mod, fallo mod, Gigi. No, no, dai. Allora, grazie Gorgos e grazie Gigi. Per essere venuti in live. Lasciate il like. Allora, grazie Gorgos. Sì, magari tolgo il volume, così non mi setto per due. 16 iscritti, vuol dire che sei iscritto uno. Grazie. No! No, Fra... Ok. Ora siamo in quattro. Quanto gas usiamo qua? Oh, ma è stato in live? Sì. Sono io, Fra. 5 minuti d'ora. Ma che 5 minuti che ha durata un'ora e mezza? Ti avrei in un'ora e mezza? SOS Montip, un'ora e 19. Ma si svegli un po'? SOS Montip, un'ora e mezza. Vabbè, c'ho 3 di vita, c'avevo. Sio me. No! Rega, tutti appinati, tutti appinati, tutti appinati, c'hai più l'ultimo, io sono più dannato. Ho comprato l'account e non so come metterlo, va bene. Guarda, guarda, guarda. Oh, c'è, ci stanno 3, perché c'erano un po'! Rega, tutti appinati a finna, qua. Reliz, se ce la fai, mi è appinati a finna, qua. Numero privato, allora gli rispondo in live. Ah, sei nella mia live, va. Dimmi! vada a piander il culo non mi risponde nemmeno ciao reliz, ya, revo aiutemi ho comprato racconto e non so me mi chiamano i numeri privati e poi nemmeno mi fanno grazie di avermi incolato tutte le munizioni, sei troppo forte no, un fallo stronzo ok ma stai schifo bene, ora vieni a fin non morire mai, ho finito ma c'è qualcuno in live, ragazzi siamo in 7, buono, buono allora, a 10 live, a 10 personi live, a 10 spec, incomincio a fare i provi barattoni a pinnacoli raga mancano 3 spec, quindi a 10 spec, incomincio a fare i provi oh, perciò, condividete, lasciate per me che non ho voglia ne mancano solo 3 spec, ovviamente appena arriviamo a 10 spec, voglio almeno 10, cioè 5 like no minimo scusate intanto legge a me ma hai fatto 50 con quella bombata io? no, lui, lui a me? no, ma state fai tanto voi ma vabbè, ma a pinnacoli dovete venire lagga, lagga, gg ma come? lagga la live no, no, non lagga la live lagga tantissimo che cavolo dite, regà? io non la vedo lagga ce la so vedere io e non lagga per un zillo raga, siamo diminuiti di uno spec c'è c'è figa uno spec no, siamo a 6 spec ah, 7 vai, raga 3 spec e incominciare e ovviamente 5 like, eh eh non sia mai almeno siamo a 2 like c'è 3 like perché me lo son messo da solo giusto? si, il suono si sente in ritardo ah, quello non ce l'ho pensato perché non l'ha sassinito fa vedere ah, quello non ce l'ho pensato perché non l'ha sassinito fa vedere ha ragione come facciamo, Revo? e fra, se sei in albo eh, tu me li hai messi i settings, eh io non ti ho messo un cazzo, io il suono in ritardo e come faccio? c'è Dendica riavvio, cosa devo fare? ma che dì riavvio ti senti il suono in ritardo? punto no dai, è brutto e i materiali e se... e se bb dai però avete l'ottica cazzo con la minica oh mio dio ma che sto malato no, sono handicappato io, eh eh, lo sapevamo chiodi una minota no respect, dai e fra, dai, mi dici come risolverla questa cosa è brutto mi spieghi una cosa ma se io non so come risolverla io come posso dire perchè non è il suono in ritardo nooo vero il suono è ritardo ma tu hai messo i tuoi stessi set ma tu hai messo i tuoi stessi set aggiorna drive aggiorna drive cazzo vuodio aggiorna drive dov'è? dov'è? ti è? proviamo a sparare? oh! stai tir! oh, la mia mia bellissima min il ganna la mia mi il ganna ora vediamo se siamo a 5 like raga eh io metto anche dislike vogliono iscrivetevi soprattutto oltre quello che uscite che se avete le notifiche pubbliche esce 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 la notifica oltretutto raga esce i like se non arriviamo a 5 like niente provini quanti like? 11 spectre e 2 like vabbè vabbè niente eh ma vai svegliare meglio per voi che vi devo dire sono tutti finti lì ma per oh ma è a me che non mi si aggiorna o? oh tu? se da che stai? stai da? io ok no da telefono a veder la like ah ok e la direi più male easy boy siamo a 2 like ancora eh ma infatti io chiudo io chiudo la live e la riavo eh eppure non ti aggiorna mi vogliono male mi vogliono male mi ho fatto ridere vai no no devi aggiornare vabbè me la guardo dal pc sono finte l'arte persona eppure ahahah 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 o sono io pazzo eh infatti raga 2 like cioè cioè raga 2 like vabbè chi è il frocio che mi spara dall'altra parte 2 like lo vedete l'altro proprio qui è qua dai mamma c'è che deve farmi morire a me nooo dai raga io non quitto da parco giochi finché non vedo sti like salire eh che sono tutti i bot compreso dei race ma guardate 2 like mettiti il like solo perchè l'altro si chiesto dai se lo metto io il like il solo si chiesto c'era poco ma però beh tu sei una bestia trap perchè non sono in live vediamo c'è 13 speck raga e non mettete i like vabbè vabbè 5 like si arriviamo a 6 visto che uno lo è messo io arriviamo a 6 no scusate no fra 13 spec 13 like non ti abbassare lo riborcio no intanto arriviamo a 6 like e faccio i provini poi ovviamente dopo voglio vedervi saline con i like eh mica smettete poi eh non c'è credo vai con dio sii ma baffa il culo aggiorni oh fai schifo ma che siamo ancora a 2 like siamo a 4 like uno è messo da me infatti quindi raga oh 4 like cioè raga non avete voglia di mettere un like cosa che forza facciamo pure i provini su mettiamo l'ite di proci i provini su eh eh mo ti danno pure nel copyright mi è capita male perchè mi è capita male io io e non la sento tanto vediamo 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 e vabbè siamo pure diminuiti di spec vabbè vabbè raga fate adesso i shieldini sono miei mi state un po' derudendo hanno sentito capitan blazers oh 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 bufu a chi l'hai detto scusa subito bufu cala mate oh c'è un pazzo mania c'è un pazzo mania con qualcuno 3 like veramente ma si si no dai 4 like sempre però è penosa sta cosa cosa mi fa mettere un like no veramente ma ce l'ho detto che sono tutti i bot oh ma io pulgo materiali cazzo anche se siete bot raga entrate con il bot mettete il like i shield eh ah il resto della mia opinione finché non mettete 5 like mentre lo vio 6 7 anche no no ho detto 5 quindi per ora è 5 poi ovviamente dopo per continuare guardate che pro build nido devo fare un trick della madonna guardate ho tolto tanto non intendevo questo trick non so nemmeno dove sei e questo è bello vabbè non lo so fare lo so scarto ah i provini no entrerò con un altro account e faremo solo 2 sai giocherete voi solo 2 e io vi smetterò non mi costruiva 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 mamma mia dei shieldi ragazzi cioè siamo ancora fermi a 4 like io mi chiedo se l'ho fatto apposta o no io mi chiedo se l'ho fatto apposta o no si ma come minimo ho fatto 8 se mi manca un like basta che chiamate un vostro amico vieni qua metti la la ma fai schifo ma fai schifo fra sono col piccone sempre gennaro fra sempre gennaro ve prego mettete la a a vabbè ma io voglio fare i provini ma che tutto però ragazzi cioè non è che io sono un uomo di farlo ma la cosa congelante si può mettere pure al muro anche sulla scala forse non lo so non lo so ma vabbè peggio per voi raga io continuo qua a stare su parco che cazzo ma io 5 spec giustamente Ma per poi il bello è che il titolo è alleniamoci con la scuote quando devo fare pro Hai capito? Non ci credo, c'ho i piedi congelati Porca troia, sono morto Il mio loot l'avete presi? No, trovo la scuola Io non ce credo, non me l'hai lasciato Permetele Mi prendete Ficchiepulla Do stai? Do stai che ti vengo a prendere? Porcu diavolo Ma perchè non c'ho più le mie trappole? Ah ce l'ho io, erano due trappole Mi prendo due trappole, però non mi ammazzate Cioè siamo a 5 like dai, incominciamo Sì sì, tu dimmi dove sei, poi vedi come non ti ammazzo I miei colpi piccoli, bastardo Dai incomincio, allora, dovrei mettere, togli l'occhio game, vero? Sì Dove stanno i colpi piccoli? Ce l'ho io pure Ok, scusate lo schermo nero, regà Ma sto cambiando a cavo Dove sei? Non salire, non c'ho i colpi Mandatela a prendo a Nick che scrivo in ciao Dammi i colpi piccoli e trappole Ok vai, sali Sali un pochetto in più, vai inizia vai Ah io c'ho 700 in tutto Due secondi, rosa Ora vi scrivo il nick in chat dove mandare la... La friend e dalla vi fare i provini Però ma spommolo da qualche altra parte Però se no i provini non è che dovranno tanto Bella Diciannove tipo Caghi? Mi cago Dico a te, scherzoni Vediamo se la posso ed è quella giusta ed è quella... Ok Sbagliata Ottimo direi Che palle non ne cossi Ok, eccoci qua Eh, ho messo lo schermo nero perché dovevo mettermi le hack, regà Così vi busto un po' No, non mi buttate giù Prego Dove sei porco diavolo Prendo ti faccio male Mi faccio male Mi facciano schifere stazzo No, è in season 6 Eh, in lifetime no Chi è che si è preso i miei congelanti? Sì Vabbè c'è questo qua che non mi fai da me guarda Dai raga mandate un po' di richieste di amicizia Ma chi sta stimmando? Ma chi sta stimmando? Per quante persone? 5 Non puoi saltare mentre è 18 proprio 5 persone No Ma dimmi il link A meno di bocci di dislike Oh, ecco Oh, ecco Oh, ecco Oh, ecco Oh, ecco Eh, raga, non mi sono arrivati Mi richieste di amicizia Oh, va Cioè, c'è credo io Beh, dai Ma Che merda che sono i tuoi iscritti, eh Ma che merda che sono Se fossi Che merda che sono Se fossero venuti Ma su che canale? Ma su che canale? Forgotto ma non mi serve dire Non mi serve A me serve gente che vuole fare i pro vini Non sa che qua nessuno li vuole fare i pro vini Nessuno mi vuole? Vabbè, peggio per voi che vi devo dire Alleniamoci con la scuola Mi lascia stare il titolo perché ne do Guarda Oh, i materiali però ce li avevi E quelli li gusto molto Grazie mille 10 di materiale veramente OP direi Chi stai aspettà? Vabbè che cazzo te devo dire Io guardarò io sto fermo qua, eh Ma faccio una pipa nel mezzo Ma se io blocco lo schermo Quanti c'è dentro? Chi stai faccio? Ma se io blocco lo schermo Se io blocco lo schermo Se io blocco lo schermo Se io blocco il telefono da Tipo così Vediamo Che succede? Ma non succede un cazzo Ti apro qua Eh no, ma che mer- Fra come faccio a bloccare lo schermo? C'è, che vedono solo questo No Non pensare male Come faccio a fare questo? Te lo faccio Perché? Vabbè Che ci devi fare col blocco schermo? Eh no Dico se voglio vedere la live E magari vedere quanti live che ci sono dal computer Almeno non Loro non lo vedono Tanto non ti immegiori live Se devo vedere qualcosa dal computer in generale Beh non deve Cazzo ti ridi Sì A quanti dai siamo? Quattro mi sa Abbiamo due speck Ma sei serio? Due speck Ma dai raga fate schisse Siete bravissimi Però capisco chi c'è il piazzi live due specchi di cui uno sono io divertimento unico sei qual è fai il titolo basta perché mi do la madre che orgasmo ora si doveva vero che raga vaffan cuore stella e magari cinque spettatori di chi è no no anche se vabbè vuole fare il provino freks o bravo si cambia il nome della l'unico due iscritto per te che cambia il nome della live modifica alleniamoci con il cimano non so metterlo non so cambiarli le cose capito non so come altre descrizioni o cose vabbè frekset ti invito tanto ci sei solo tu perciò non serve aprire la lobby non entra nessuno non entra nessuno oh freks come fate essere il primo è vero l'unico che giud che sei ma frekset parli ecco il più veloce che è ruba di lui ma non potrei fare 2000 specs come come return si proprio come return almeno io non chiedo a un mio team membro del team di far finta di essere un'altra persona per farti il video dissing vai fai dissing no no poi una live return mi insulta di morte quanti iscritti ti fanno mi minaccia di morte o quanti haters tra match che ne fai tipo 2000 per questo 2000 trova tutti forse ci avrai due iscritti come mano? tutti haters ma prima prima nico mi insulta di morte e poi nico chiamarei turn e mi insulta di morte avete 20.000 spettatori vi adoro chi l'ha scritto? guarda metto di dico ah scusa ah scusa io mi sono confuso con nick e 30 quello 70.000 spettatori fa ah invece ne pure nemmeno un quarto proprio uno scriccioletto anche mille ma nemmeno anche 100 vanno bene giusto per parlare con un po' di persone e non sta da solo ah ah che stronti taradà ah frexit non parla ah comunque i requisiti sono 8 8.000 spettatori 8.000 spettatori raga twitch.tv slash eh forgot eh come andiamo twitch.tv slash forgot ah 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 stai live? no ah 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 e allora fra ma qualcuno sa vettere ritmo ritmo quella la della mondica eh ah l'ha bannato male ma perché io faccio meno fps del solito vai faccio vedere come giochi frexit faccio vedere un po' quanto fai schifo eh ragazzi ecco ha stato dicendo non faccio 200 fps e inizio fare 200 fps ma mi sa che i provini che è il suo comando per fare 200 fps mi fai fare a live sul tuo canale oppure di facebook però se vuoi o vuoi ma ma abbasseresti solo gli specchi che già non ho ma poverino l'hai visto com'è morto? eh frexit hai un'altra possibilità tanto superi tanto potresti averne anche 20.000 per farla live però per farla durare qualcosa però purtroppo devo far volare gli altri vuoi farla? quali? ah no no poi bella non te li sai tenere non ti ti lamenta che c'hai due spettatori eh ma io non mi lamentavo io non mi lamentavo oh c'era Eevee che con 36.000 iscritti c'eva tre spettatori ma che non ti svegli un po' ma io dicevo solo che non mettevano like vabbè raga però ma secondo te mettono like e ho risparmato come te magari mi voglio io magari ti voglio vogliono bene no 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 gioca ti finì ne gioca tanto colpolo possibile ma questa cosa che non ho non ho i seti e gioco a fare le partite con quella noi e non mi ricordo cambia account tanto non di fa prima rimetti il titolo alleniamoci da soli perché non è una scuola non posso metterli i titoli come lo c'è fatti svee vai sulla dashboard del canale lo faccio in live se lo fai il mio canale creator studio aspetti che ci mette vent'anni a caricare 18 iscritti quindi si sono iscritti 3 persone sono iscritte 3 persone 2 dai raggi quindi se lo so frano mi carica guarda Dio Dio ma che è quello cosa eh però non mi carica Dio Dio bestia vabbè bel gioco guarda che trovi perché gioco bello youtube oh il mio canale poi dash S personalizza canale di youtube studio però non c'è la dashboard io non la vedo la dashboard come cos'è CREATOR STUDIO eh frano youtube studio creator studio io non lo vedo ok vicino a personalizza youtube studio quello che vuoi basta che c'è uno ok vai all'analisi del video no che live streaming la c'è video dati analisi commenti altre funzioni video eh no ma questo questo qua è non c'è questo qua non c'è non c'è non c'è e se non c'è 360 bug 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 mi piace 100% però la prima live aveva fatto 10 like no beh guarda guarda che non c'è niente qua vai proviamo questa proviamo sta roba ah gestione video live streaming videocam bella per le congelanti 2 io sono in streaming oh ecco ma baffa ancora alleniamoci tryhardiamo in singolo anche se non tryhard perchè so scherzo tryhard anche se non lo so fare o fare tryhardiamo try con la y poi yardiamo senza la y hack hardiamo hack hardiamo senza quella y hardiamo io dovrò un nuovo coso per live streamare cioè un nuovo coso dopo mi scarico il negro sull'amo grazie per la risposta ti ridi mi aspetto ti ridi eh ti chiamano aspetta che mi madre mi chiama ma hai già fatto merenda? no no ah che so il gelato ma i mortacci tuoi cioè non mi porti il liquido e mi porti il gelato ma il gelato non mi porti 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 il gelato e allora alle 4 ci vai bravissimo si come faccio a salvare dai ma te prego eh come faccio a salvare le cose eh eh come faccio a salvare le cose le le impostazioni eh cambia miniatura bella bella Riccardo Bellini scusa per questa schermata ma oh mi ha cambiato? aspettate un attimo mi ha cambiato riccardo vorresti fare vuoi fare provino? se vuoi mi mandi la friend su questo account che vedi qua in che vedi qua in sovraimpressione no mi mandi la friend su frame provini e e devi fare 2 solo vs 2 facendo 8 kill più win ho 10 per entrare nel team frame se no vado a fare un po' di singolo Riccardo i mod li farò tra un po' appena avremo più spec appena avremo un po' più iscritti grazie grazie dell'iscrizione Riccardo lascia like alla live vabbè allora raga metto un attimo lo schermo in nero e vado a giocare un po' di singolo comunque i mod ovviamente li farò vedendo ti api online durante tutte le live chi condivide chi mette like ogni volta chi fa venire anche più amici a vederle live molte cose ti ridi? l'ho blindato comunque Riccardo Riccardo Bellini è uno del è un tuo iscritto? no Bellini Bellini scusa no non è buono allora è scritto addirittura però non ha lasciato like dopo mi devi mettere quella cosa che blocco lo schermo è un po' di è un po' di cring ma è un po' di cring è un po' di cring dell'errore po' di cring si vedeva bene non vado io ripieno staggata No no sono sempre là, sto guardando se anche le scorse live magari ti senti voi Spara No vedi anche le altre live si senti in ritardo Ah ma che handicappato ho lasciato lo schermo in nero scusate Scusate mi hai zero spettatori Dai zitte che non è vero No mi stai per uccidere Basta almeno non ho l'ago Ma che c'ha dito Ma ma vaffanculo no molto stupendo No ci ha preso il pistacchio che schifo Ma che cos'è quello è pistacchio Ma questo è O dir poco sublime Ma di che cosa l'ago finge perché Ma che pistacchio ma me ne vai appena Ma che cosa l'ago Ma che cosa l'ago Oh le farolacce sono in stream Cazzo la fai tu Ma che cosa l'ago Madonna che cazzo è sto rumore Che è questo rumore Una pistolina Ehi vabbè Perchè? Ma te lo faccio guardare Si, lo faccio io Aspetta che vado a moderare Ho lasciato dire Mi serve un po' di aiuto, ho raso troppo Oh, il mixer rosso è mio Riccardo Bellini Ma dai, ma guarda come son morto Ma dai Quanto cazzo sei nabbo Ah zitto, devi dai due clic No, no, dico Arreligia Ma ma scritto russo Mettilo a mod Riccardo Revo sono in team Ma E beh Vabbè fammi un'altra Che cosa? Che hai uno 22 di KD Eh? Hai uno 22 di KD Dove stai? Dico a lui A lui Vabbè Vabbè Non c'è qualcuno su Discord Dopo a Bruno gli dico quella roba Revo Ehm Ehm Bella bro Io vorrei fare provino, posso? Allora, Mickey Ehm Aspetta un attimo che finisco Questa sono E dopo cambio account e vengo a farti provino Va bene? Devi aspettare Il tempo che dovresti usare No, fra fermo E grazie mille Ti trollano Perché? E grazie mille per l'iscrizione Ti fanno cambiare account e poi lo voglio più fare Si cazzi Tanto ci metto due secondi Ti è piaciuto il blind in volo? Vabbè, Mickey Eh, continuo a guardare un attimo la live che ti scosta single e poi cambia account e... Ti prego, continua a vedere Ti prego, almeno tu guardami Vabbè 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 Ti spegno Così ti riesco a capparsi Si, si, prova i tra Ok Ando come un botto Già ho il gelato Mmm Mangio sempre Rebucci Porco ma sonzo Si raga In una casa non c'è una Bella 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 Te lascio qua la doppietta tavola eh Io vi ho lancio agazzi Ah Mi hai capito? No No Per farti capire Per farti capire In una casa ho trovato un'arma dentro una chest e mi salto Mi funziona sempre che se magari faccio 5 kill ma gioco molto bene sono dentro Sicuramente non sei dentro subito Sicuramente non sei dentro subito Mentre se fai i requisiti Se fai i requisiti che abbiamo Saresti dentro subito O comunque te lo direi Dopo pochissimo Comunque boh se giochi bene Frato ho blindato a 2 quindi Parlo un po' con la gente Ti provano E poi vediamo Però Se fai quei requisiti sei sicuramente dentro Quali sono i requisiti? 8 kill più win Oppure Devi fare 10 kill Senza 1 Minimi eh Fai ovviamente se fai di più Frato ma fate una a 2 E lui deve fare 10 kill almeno è possibile Vabbè no Non è che deve fare in una a 2 10 kill In una solo 2 Ora un attimo Finito questa partita Qui sta la gente Quasi meno di push Ok Si si uno verso il 2 Ehi 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 Ho un deficit mentale raro Lo stavo blindando Ma raga non c'è niente Porca cosa Anche quando ce l'avevi Sì Quando ti ho fatto cascata la scaletta blindata Se muori subito si rifà Ah si no vabbè Oltre a quello hai 2 tentativi Dicono tutti così Ma? Qui adesso è gelato al pistacchio che fa schifo Sì Ma vada a piandere il culo va Sai raga non c'è niente Vabbè andiamo in safe Le sfide settimanali Mi farò Ti sembro tipo da squad? Tu si che mi capisci al volo Tu si che mi capisci al volo Bene vado a buttare il culo il gelato a mia madre Si ti realizza se sta a fomentare Che c'ha 6 spettatori Si ma c'ha 6 spettatori Ma ne scrive solo uno Non scrive nemmeno uno Fraudi è ritardo fammi capire Scusa Eh fra è ritardo Te l'ho detto Vediamo se vedo quella persona Quello stronzo che mi ha sparato o no Quanto cazzo è ritardo? Eh non lo so perché E' tu che me l'hai settata Un altro iscritto Addirittura Questo è Revo Grazie Russo per Per la sub Per sub Grazie der sub Lascia like se non l'hai lasciato Not hopefully Un Buzz Ah Quanto cazzo Sì, sì, sì. Scusate se non vi leggo, raga, ma sto facendo. Raga, guardate il blum, eh. Guardate il blum. Realizzo. Ma il dieci colpi, sto gay. Sì. Ah, il dieci colpi. Ah, sto dieci colpi di merda. Proprio per dieci colpi. Eh, che cazzo ne sapevo che aveva dieci colpi. Sì, se no non sarei stato... Se c'avevo io il pc tuo! Vabbè, arrivo. Metto un attimo lo schermo in nero. Due secondi, raga, cambia il gioco. Cioè, cambia l'account, se ne so. Realizzo. Allora, sto delà a portargela. Allora, sto delà a portargela. Aspetta, fermo, sto delà a portargela da mia madre, no? Un attimo. Allora... Chi t'ha bustato, fermo! Dammi... Chiudi il revo, raga! Mandami la friend su quello che ho scritto, sull'account che ti ho scritto qua, sul nick che ti ho scritto. Oh, ma se devi rompere i coglioni, ma vattene da un'altra parte! Non si può vedere il contatore. Eh? Non si può vedere? Il contatore là in alto a testo. Ok. Nemmeno avessi 160 per iscriviti. Così largo, dici? Far figo con 22 iscriviti! Ma ti stai un po' zitta! Che c***o? Che c***o? Che c***o? Uhuhuu! Sei bella! Io conosco tu, come canella! Manda, la manda, la manda, la mandella! 5 e 4 e 4 e 5! Ma che so fai? Uhuhuhu! Happy day! Faccio comunella solo con i miei! Sementerite! Allora... Vite da 10! Aliminazione con mitra in giustina! Ahhhh! Se hai l'eliminazione con il cecchino, le avevo già fatte 30 delle sfide con i bizzar! Ma tu mi stucchi il c***o! Per chi vuole fare l'eliminazione, mandatela a casa sempre! Vaffanculo! Mi hai capito! Ah! Vaffanculo! C***o! Gigabyte Mickey! Ma è lui! Oh ma m***a! Ti ho invitato, Mickey! Bella! Bella! Metti pronto! Sei già i requisiti! Sì! 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 Oh! 10 spec! Revo! Oh! Non fatti! Diciamo che ti ho bustato! Oh! Sei stato tu! Sì! Sei stato tu, Revo! No, Revo! Fai sede! Sei stato tu! 8 spec! Giustamente scendono! 8 like! Quindi ho due! Iscrivetevi! Quindi ho due possibilità! Sì! Se non trovi armi, non vale la partita! Ah ok! Perché sei così forte! Ehi, Blizzard! Non lo so nemmeno io! Posso fare il provino? No! Rosso! C'è la bucchettiva! Se si sente del rumore stano è la mia tastiera! Lo capisco! Tranquillo! Ah! Posso andare dove voglio? Devo... Dove vuoi! Dove vuoi! Grazie! Dear Sub! Vediamo chi si è iscritto! Amy Shark! Grazie mille! Dear Sub! Bella Amy Shark! Tu vuoi fare provino? Se ti interessa fare provino! Per i frame! Mandami la richiesta su... Quest'account! Frame provini! Frame spazio provini! Lascia like se non l'hai ancora lasciata! Ok! Eh vabbè, ciao! Ecco che io vivo già l'ansietta! Come sto dallo a morire! Vediamo! E' un cpa! Cosa! Cosa! Grazie! Ragazzi chi vuole tante botte in faccia? Eh dai però! Eh dai però! Eh dai però! Appena sentate la prima cosa che hai fatto è stato lasciare like e scrivi ringrazie Shark! Lo apprezzo, grazie! Ringrazio molto sto gioco per le armi che mi dà proprio! Ringrazio molto sto gioco per le armi che mi dà proprio! Ma sei stato tu a sfammarmi o? No! Sicuramente ero così che ho visto! Ti ho messo su whatsapp! Non so se... Ah sì, alcuni sono venuti perca! Questa è già bruciata come prima possibilità! Ma se tipo uno di escogge si può riprovare tipo domani o... Quando farò la live sì in casa però non è che puoi riprovare tipo 20 volte! Al massimo qualche volta! No no, ma quello è ovvio! Si vede che questi non sono i miei esatti! Non è che mi devo alzare però! Oh in realtà io so che non è ma c'è uno scappone che si chiama tipo questi cappotti! Eh lo so anch'io però... Lo ordiniamo tanto per... tanto per! Ah cazzo ma che handicappato! Dove vuoi! Sì sì! Ehm... C'è gente qui eh! Eh beh regà andate venite tutti affanculo! Cioè io mi ero vada a farm... Belli! Cosa vuoi farti? Belli geek! Eh... Eeeh... Rally, tu sai che mi voleva dannare a giocare? Ma che cosa? CSP Allora, ho un account ma è cinese Cioè, gioco nei server cinesi perciò Rally 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 Sì Non ci servono intorno Nella lanza No Dimmi di sì ti ho detto Mi hai detto di nooo Braa Ah Oma Come here boy Luca ma fei Devi uscire Nona Ho tutti gli chas spam di map In one cccc Jackie Cèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèh Dai, ti doltima 200% Solo per quello eh Se vuoi fare il provino scrivimelo in chat così per ora Ah ok vuole fare il provino Perfetto Ok allora Ma si è vuggato Si è abbandonato direttamente a lui Non ho mai visto Ah ti ho invitato short Brava ma Frexit tipo prima mi ha detto eh Non posso giocare in più e ora sto facendo risorse Ciao Shark Se vuoi sapere Ah se ti senti i requisiti sono Si si ti sento Allora ho una win con 8 kill oppure Quelli non sono i requisiti No E' quello che devi fare O una win con 8 kill oppure Senza win ma 10 kill In game senza win ma 10 kill Senza morire Ah ora Eh si In solo 2 C'è posso anche inviarti una foto E' ma non mi interessa E' un'altra contro squadra Devo fare una win solo contro squadra Devo farla ora Ok L'ho fatta ieri Quanti identificavo che non l'hai vista Quanti identificavo che non l'hai vista Quanti identificavo Quanti identificavo che non l'hai vista Quanti tentativi ho Ok Se non trovi armi Non vale Da win der culo Ok Che stasera Non trovi armi Da win der culo 1 a 1 a pc già chi c'è le canzoni dei progetti che si sentirete e c'è chi c'è quanti rei che sia belle a 16 dove andare attiva che stiamo 0 buona rigaudo abbiamo fatto già riscritti grazie mille scusi se baggato 9 rai per chi in quell'universo gli abbia persi i can wait for the show vabbè c'è un fottio di gente per te che cambia la live cambia la live tanto muoio quanto laggo dai vediamo se credo la live mia mamma 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 vabbè va quello con la doppietta mi sciotta finita materiali stanno fightando eh si si dai vedi che è solo quello ma si è suicidato bravo non vabbè va vabbè 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 ma eri lontano poi con il depotenziamento non dico che soprattutto laggo ma adesso sto laggando più si si ho capito ma ma come riesce a prendermi ma quello usa palesemente e imbo aiuto il materiale e vabbè va sta una mira precisi ultimo tema possibilità poi quando potrò riprovare un'altra volta però siamo in pochi dopo in casa non c'è nessuno faccio ok per ora siamo in pochi perché dopo siamo 50 60 70 quando salire sto più in alto sto salendo tu dici ma sta ma boh però dai sarei voti iscritti beh sì se intrattieni sbagliando soprattutto prima era la prima partita del giorno guardi che te stai a dimenticare chi sta live poi con tutti i spettatori che ti ti fanno così tante domande ma potrei fare mi vuoi chiedere a revo se poi potrei fare un 1 v 1 contro di l'imparevo ti chiede shark e se vuoi fare con lui che ascia al shark quello che stavate a me dici shark no no ma no perché mai di pure che è ancora un problema del contesto che avevo vinto ea di salver mani ancora dal premio del contesto al mondo non è vero io l'ho dato te l'ha data no 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 l'ho dato no 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 l'ho dato al russi non l'ho dato shark perché so sono uguali nello rimmaginivo più no no ha detto che eravamo 3 vinci a un'altra ha detto che erano 3 da quello che c'è adora stavo mi ha vinto il secondo premio shark ha detto che ha vinto il secondo premio oh rabbia la safe ma quanto laggo ma perchè io non posso vedere il video eh lo so sono io adesso ma a volte l'aggo sono come faccio a mettere il e non lo so manco io però da me è meglio è tipo il secondo account questa cosa stanza che io quando gioco anche da play sembra con questo account da me c'è scritto mentre mio fratello no non lo so 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 tra l'ho battezzato a questo ma ma è bene no però ma l'ho battezzato veramente a questo ti vuole troppo bene allora ragazzi visto che non c'è se qualcun altro vuole fare provi non manda la friend no vado a giocare un po' di solo e poi sta quanto sono in dive oh frate non la vita un'ora ciao shark fra troppo per l'auto prima live ciao io la mia prima ho fatte 5 ore comunque dagli il premio a shark poi è shark chi doda? ah il premio e se il blaster mi risponde se vuoi ho le cose sul mio account ti ricordi che me dagli le tutte quelle dagli le tutte quelle dai le tutte quelle no aspetta voglio vedere il video di piazza che me vuote della live vabbè raga bella sacco visto che siamo no no fermo fermo guarda te lo in live vedi 70 copilet guarda la live no guarda te lo in live tanto 70 copilet che te fai che cazzo te rimbrega bella raga bella bella raga bella live di un bel grazie della magnifica se arrivo a fare live e poi la finisci in caso ti sarò io dopo e in caso stasera oppure sicuramente sicuramente bella 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 boost Grazie.